di congruità tecnico-economica di Agid, vi ricordo che questo è un webinar che rientra nel progetto che Formez realizza per Agid, formazione e informazione per la trasformazione digitale della PA che rientra nell'ambito del programma Italia Login, la casa del cittadino a valere sul Pong Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Questo è l'ultimo appuntamento, come sapete abbiamo già affrontato una parte degli argomenti relativi a questo tema il 14 e il 21 marzo, in particolare il 14 marzo abbiamo parlato del ciclo strategia, acquisizione e gestione delle iniziative CT della PA e trovate i materiali e la registrazione alla pagina di eventi PA del 14 marzo. Il 21 marzo abbiamo invece parlato sempre con i nostri esperti dei contratti e degli accordi quadro e CT delle PA centrali. Anche qui nella pagina del 21 marzo trovate tutti i materiali. Oggi il tema che affrontano Fabio Massimi e Francesco Grasso è relativo alle gare strategiche dei soggetti aggregatori e di Consip. Ci saranno dopo gli interventi dei due nostri esperti ormai conosciuti ci saranno le conclusioni anche di Ludovico Anniballi, dirigente di Agid. Sempre sulla pagina di eventi PA troverete da domani in poi i materiali, le slide che presentano i nostri relatori e la registrazione di questo webinar. Potete porre delle domande in chat che vi solleciteranno le comunicazioni dei nostri esperti. Siccome oggi abbiamo un programma diciamo saturo già relativamente alle comunicazioni, vi promettiamo però che avrete una risposta scritta, quindi sarà pubblicato sempre sulla pagina di eventi PA della giornata di oggi, un file pdf con le risposte alle vostre domande. Quindi io vi do il benvenuto, vedo che mano a mano state continuando ad entrare e passerei la parola subito a Fabio Massimi di Agid che inizia rispondendo alle domande che avete posto, che sono rimaste in evase poste nello scorso webinar. Fabio se provi a parlare. Buongiorno a tutti. Ecco allora ti sento. Benissimo, grazie per passare questa ora e mezza insieme a me e Francesco su questi temi che dai feedback che riceviamo sono molto sentiti dalle amministrazioni. Allora oggi tocca a me rispondere alle domande che sono state raccolte nel corso del scorso webinar. L'agenda l'abbiamo già vista, queste sono le domande. Allora direi di iniziare, vedo che i partecipanti stanno entrando ma abbiamo un'agenda abbastanza intensa quindi procederò già a rispondere alle prime domande. Le abbiamo un po' accorpate in base alla tematica. Quindi allora la prima slide che vedete, le domande che sono arrivate, le leggo così molto velocemente. Eventuali contratti stipulati con clausole di tacito rinnovo e non disdetti prima della scadenza, si intendono rinnovati o sono impugnabili nei confronti del fornitore? La seconda domanda, si può decidere di legarsi ad un unico fornitore di prodotti per motivi tecnici reali, virgola effettivi? E dal punto di vista software, come si può scongiurare il vendor lock e permettere l'import dei dati nella successiva banca dati? Allora in generale queste domande sono legate al rischio di lock in. Allora riguardo la prima domanda, anche se un po' esula dall'obiettivo di questo webinar perché non abbiamo l'ambizione di dare indicazione di profilo legale, come ha risposto già una collega in chat durante il webinar dello scorso 21 marzo, fatto di vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti che prevedono il tacito rinnovo, quindi dal punto di vista normativo già c'è un vincolo a non stipulare i contratti di questo tipo. Però naturalmente noi ci soffermiamo sulle ragioni di tipo tecnico, perché legarsi con un contratto molto lungo ad una tecnologia capirete che è un rischio elevato perché la tecnologia si evolve molto rapidamente e quindi è corretto che i contratti vengano verificati e ridiscossi con delle tempistiche abbastanza, non dico molto frequenti, ma non portare delle forniture a periodi lunghissimi, quindi il tacito rinnovo è il classico meccanismo che di fatto va a legare l'amministrazione al fornitore e che in qualche modo fa perdere il controllo all'amministrazione sulla fornitura e sui beni e servizi che sta acquistando. Quindi c'è una motivazione sicuramente legale alla risposta alla prima domanda e c'è una motivazione di tipo anche tecnologico. Sulla seconda domanda, ovvero legarsi ad un unico fornitore di prodotti per motivi tecnici reali e effettivi. Allora è possibile legarsi ad un prodotto, ad una tecnologia? Cioè ci sono, noi vediamo, posso dire quotidianamente, delle situazioni di legacy in cui amministrazioni hanno dei sistemi critici che devono essere manutenuti magari su tecnologie che ormai partendo in questo momento avrebbero più scelte. Quindi può succedere, però non bisogna legarsi al fornitore, ovvero sia l'amministrazione deve mantenere il controllo su quello che sta acquistando. Quindi magari va bene legarsi ad un prodotto, non va bene legarsi al fornitore. L'amministrazione deve essere libera di poter cambiare fornitore e soprattutto bisogna stare attenti a quei lacci che spesso possono trovarsi nei contratti, per cui magari uno acquista un bene un servizio e poi si trova con dei servizi accessori che sono molto onerosi e dai quali non ci si può sganciare. Quindi una forte attenzione a, proprio quando c'è un vincolo di tipo tecnologico, motivato dal punto di vista tecnologico, a fare attenzione a non legarsi al fornitore. Per quanto riguarda l'import dei dati, qui iniziamo oggi, parleremo appunto delle gare strategiche e quindi anche degli accordi quadro, gli accordi quadro CONSIP che vengono in molti casi, per tutte le gare strategiche in particolare, definiti insieme ad Agid, sono in realtà una raccolta, costituiscono un corpus su cui le amministrazioni si possono ispirare per andare a definire delle clausole contrattuali. Naturalmente in caso di migrazione occorre fare molta attenzione e comunque imporre al fornitore delle clausole di dismissione e che possono prevedere ad esempio la definizione di un piano di trasferimento. Qui ho riportato come esempio l'accordo quadro CONSIP sul servizi cloud di produttività individuale e collaborazione. In questo accordo quadro ci sono proprio servizi di posta elettronica e voi vedrete che ci sono dei vincoli contrattuali per cui il fornitore è tenuto al momento del termine del contratto a favorire il subentro di un nuovo fornitore ad affiancare l'amministrazione al nuovo fornitore nella migrazione e vengono anche definiti dei deliverable documentali che devono essere prodotti dal fornitore uscente per agevolare l'ingresso del fornitore successivo. La seconda domanda è sugli affidamenti in house. È una domanda così noi l'abbiamo interpretata, spero che abbiamo interpretato il pensiero del collega. Nei rapporti con la nostra in house stiamo tendendo a inserire penali per la corretta esecuzione, progressivamente sempre più restrittive. È un comportamento corretto? Possiamo ritenere preeminente l'interesse della PA alla esatta esecuzione del contratto, anche se penalizzare una propria in house ha un effetto sbiadito proprio perché è controllata in proprietà? Allora, dalla domanda emergono diversi elementi. Il primo elemento che ci teniamo a chiarire è quello che l'amministrazione che ha una in house non è obbligata a utilizzare l'in house per servizi che può reperire sul mercato. Anzi la norma, il codice dei contratti pubblici prevede, l'articolo 192 prevede proprio che l'amministrazione faccia una valutazione di congruità tecnica e economica dell'offerta dell'in house prima di procedere all'affidamento. Quindi è logico che c'è comunque anche se l'amministrazione ha un controllo sull'attività dell'in house molto stretto, come se fossero servizi propri, ha comunque la possibilità di andare a negoziare i servizi che sta acquistando. Anzi possiamo dire che in passato, adesso credo l'anno scorso, due anni fa, ANAC sugli affidamenti in house aveva iniziato un'iniziativa proprio per andare in qualche modo a regolare gli affidamenti di cui spesso si è fatto abuso. Quindi naturalmente c'è l'in house, c'è un rapporto privilegiato, ma c'è sempre, c'è deve essere sempre il confronto con il mercato. Quindi valgono tutte le considerazioni che abbiamo già fatto anche nei webinar scorsi per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti per far sì che la fornitura sia efficace. Quindi è corretto inserire indicatori di risultato agganciati magari a quote e sospese della remunerazione. È corretto andare a definire livelli di servizio stringenti ove necessario. Naturalmente i requisiti di qualità devono essere definiti dall'amministrazione come se si trattasse di un fornitore normale, di un qualsiasi fornitore di mercato. Stessa cosa per il monitoraggio del contratto. Quindi da questo punto di vista, anche se la procedura di affidamento può essere vista in modo più semplificato, le misure di strumenti di controllo sono i medesimi che si adottano per contratti verso un normale fornitore. Infine, facendo l'esempio delle convinzioni quadro tra il MEF e il SOGEI, è corretto e anzi opportuno andare a definire dei piani operativi annuali che siano modulabili, quindi andare a pianificare l'attività nell'anno per declinare dal punto di vista operativo l'attività che deve essere fatta e soprattutto a portare delle azioni correttive. Ecco, un elemento fondamentale che abbiamo notato proprio lavorando anche sulle gare strategiche è quello di far sì che le informazioni che derivano dall'esecuzione di un contratto devono essere l'input per la definizione del contratto successivo. Quindi se vediamo che un livello di servizio piuttosto che uno strumento come un indicatore di risultato non funziona, nell'edizione successiva è corretto fare frutto dell'esperienza per andare a migliorare l'affidamento successivo. Adesso questo ciclo virtuoso a maggior ragione viene utilizzato per fornitori che sono stati selezionati con procedure di gara ma allo stesso modo devono essere utilizzati per gli affidamenti verso l'in-house. Allora abbiamo un'altra domanda, facciamo una domanda sui servizi cloud. È possibile acquistare servizi cloud con un contratto pluriannale che ha ad oggetto acquisto di licenza, di supporto e eventualmente di giornali di personalizzazione e di manutenzione oltre il canone annuale? C'è la prassi nel mio ente di effettuare ogni anno un contratto di acquisto nuovo anche solo per pagare, il canone di rinnovo. È corretto effettuare un acquisto per esempio quinquennale? Allora anche in questo caso la domanda ha diversi accenti di tipo più amministrativo che tecnico. Noi cerchiamo di dare una definizione, una risposta che sia coerente col contenuto di questo webinar, quindi la vedremo dal punto di vista tecnico. Naturalmente il primo richiamo che poi penso che farà anche Francesco più volte successivamente è l'amministrazione quando va ad acquistare i servizi deve prima, cioè è corretto andare a vedere cosa offre, cosa offrono gli accordi quadro CONSIP e anzi ritornando ai nostri pareri nella relazione illustrativa l'amministrazione qualora non utilizzi gli strumenti CONSIP deve darne una motivazione, quindi questo per dire che gli strumenti CONSIP esistono proprio per agevolare l'acquisto. Oltre che agevolare l'acquisto la documentazione che viene prodotta e alla quale collabora anche AGID sono fonte di ispirazione anche per le amministrazioni che poi fanno degli affidamenti in autonomia senza utilizzare gli strumenti CONSIP. Quindi da questo punto di vista nel caso specifico abbiamo riportato sulla lunghezza massima contrattuale la durata massima che viene indicata nell'accordo quadro per i servizi di public cloud, gli AS e PAS di CONSIP. Sugli acronimi mi hanno detto di sciogliere gli acronimi nel webinar scorso, quindi gli AS è Infrastructure as a Service e PAS è Platform as a Service. in questo caso appunto nell'accordo quadro di CONSIP la durata massima contrattuale è di 36 mesi. Questo perché? Perché in particolare per tecnologie cloud la tecnologia diventa sempre più economica col passare del tempo per l'evoluzione tecnologica e il crescente tasso di adozione di queste soluzioni. Quindi è logico che legarsi ad un contratto alle stesse condizioni per un periodo molto lungo non è vantaggioso per l'amministrazione a meno che non vengano introdotte delle clausole per andare a rinegoziare nel corso del contratto alcuni parametri di remunerazione. Quindi in generale io capisco la complessità amministrativa di procedere all'affidamento, però la complessità l'amministrativa può essere risolta affidandosi agli accordi quadro di CONSIP e in ogni caso l'amministrazione deve fare in modo di avere mano libera perché la tecnologia evolve e quindi i costi si possono abbassare, quindi attenzione ai contratti di lunga durata in generale. Ultime due domande. Una domanda su un servizio cloud SaaS che sarebbe software as a service. Quindi se devo acquistare un'applicazione in cloud SaaS tra quelle certificate Agile si può evitare di verificare la documentazione tecnica in quanto già verificata da Agile? Allora in generale io direi che il fatto che ci sia una qualificazione non è sull'amministrazione a fare una verifica di prima persona della bontà della soluzione che sta acquistando. In secondo luogo dovrei dire nel caso specifico dal 19 gennaio 2023 la qualificazione dei servizi in cloud SaaS non viene più effettata da Agile ma è passata sotto il controllo di ACN. Quindi se voi andate a vedere sul sito dell'ACN c'è un periodo transitorio dal 19 gennaio al 31 luglio in cui i servizi qualificati da Agile che hanno una qualificazione valida passano di diritto nella qualificazione al primo livello nel catalogo dei servizi cloud di ACN e a partire dal 1 gennaio 2023 sarà avviata la nuova procedura di qualificazione che dispone appunto di quattro livelli così come descritto nella determinazione 307 di ACN in ogni caso, questo lo ribadisco, è opportuno che l'amministrazione mantenga il controllo io capisco in qualche modo la tendenza dell'amministrazione ad avere una fonte certa che dica sì questo prodotto va bene o non va bene, però qualsiasi qualificazione non può entrare nello specifico dei problemi dell'amministrazione e della realtà dell'amministrazione, quindi è sempre l'amministrazione che effettua l'acquisto che in primo luogo è responsabile dell'acquisto e deve capire qual è la soluzione che più fa al proprio caso ultima domanda, dovendo importare i dati da un'altra applicazione esiste una guida su come impostare i criteri per la verifica dell'amministrazione dei dati? allora, buone prassi sono indicate nel manuale di abilitazione al cloud vedo probabilmente che la slide, il testo è saltato in ogni caso c'è un processo ben definito che viene descritto appunto nel manuale di abilitazione al cloud che prevede appunto un processo in sette passi quindi dalla pianificazione della migrazione all'analisi, alla validazione dei dati del sistema sorgente la creazione dello schema dei dati del sistema di destinazione e quindi fino alla dismissione del sistema sorgente anche in questo caso il riferimento al manuale di abilitazione al cloud è un buon consiglio per andare a verificare che tipo di processo l'amministrazione deve inserire e cablare all'interno di un contratto naturalmente queste prassi sono prassi che sono ampiamente utilizzate dagli accordi quadro CONSIP credo di aver terminato per le domande grazie a questo punto grazie Fabio, sei stato puntualissimo intanto un buon pomeriggio a tutti vi vedo numerosi anche oggi vi ringrazio per l'attenzione abbiamo già ricevuto diverse domande offline al termine degli altri seminari e questo ci fa piacere invitiamo nuovamente a darci dei feedback perché questo è uno dei nostri lavori a cui appunto teniamoli più è il webinar è come gli altri che abbiamo fatto con Agit è un momento anche di condivisione del nostro lavoro allora oggi parlerò dei pareri vincolanti che noi rendiamo sulle gare strategiche e mi tocca iniziare con qualche definizione tratta della norma, perdonatemi allora cosa sono i soggetti aggregatori detti anche i centrali di committenza sono definite l'articolo 3,1 lettera N del codice dei contratti sono elencati sul sito naturalità anticorruzione il più noto di tutti tra questi enti ovviamente la CONSIP sul sito IALAC sono elencate altre 19 centrali di acquisto regionali una per ciascuna delle province autonome di Trento e Borsano poi ci sono 8 centrali di città metropolitane e due centrali delle province di Firenze e Brescia cosa fanno questi soggetti? la norma dice che sentita Agit sottolineato per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel piano riennale programma gli acquisti di beni e servizi devo informarli perché di quello noi trattiamo in coerenza con la domanda aggregata e questa è la parola chiave di cui ha predetto il piano riennale promuovono tramite questi strumenti l'aggregazione della domanda funzionale l'utilizzo dei contatti quadro e quant'altro messo a disposizione noi come Agit rendiamo appunto quel sentito Agit si declina nel parere obbligatorio e vincolante di cui già abbiamo parlato nel primo modulo di questo webinar che noi rendiamo esensi dell'articolo 14b 2 lettera G del codice dell'amministrazione digitale vi prometto che con le norme oggi forse abbiamo finito no invece no purtroppo va bene c'è quest'altra norma che consente a Consit di concludere accordi quadro quel famoso a cui vedete tutte le parti a cui tutte le amministrazioni quindi centrali e locali possono fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi noi ci occupiamo ovviamente dei beni e servizi informatici i conti quadro sono più omnicomprensivi ancora volta c'è il concetto di aggregazione della domanda ogni pubblica amministrazione è un cliente può essere appunto una stazione affattata però vista il suo complesso l'amministrazione pubblica è un cliente molto più importante ha un volume tale che può in qualche maniera anche essere un soggetto negoziale più forte e ottenere condizioni più vantaggiosi questo è da punto di vista economico una delle ragioni e poi dal punto di vista tecnico c'è la possibilità tramite questa aggregazione della domanda di razionalizzare la spesa di avere una omogenizzazione dei servizi acquisiti e oltretutto una maggiore efficienza anche nei rapporti con il mercato e nella gestione amministrativa delle procedure di acquisto questo lo dice ovviamente la norma e noi cerchiamo al nostro piccolo di concretizzare di tutti questi elementi entrando nel merito io qui ho elencato in questa tabella le gare strategiche attualmente attive di Consi vedete questo elenco quindi abbiamo la transformation tutte le varie gare del cloud gare del settore della salita digitale piuttosto di gare sulla sicurezza e quant'altro in questa tabella che vedete oltre ad esserci il titolo ma anche il link per cui se vi scaricate queste slide e cliccate su i titolini il nome di queste gare verrete mandati rediretti verso il sito informativo di concept dove è descritta la gara e anche le opportunità insomma che essa offre e i modi di utilizzo la metafora che noi siamo sempre è quella della cassetta degli attrezzi cioè nel percorso che le pubbliche amministrazioni devono fortemente seguire per digitalizzare i servizi che loro stesse offrono alle loro utenze istituzionali cioè cittadini e imprese queste gare strategiche rappresentano danno degli strumenti degli attrezzi la metafora è quella che vedete martello, cacciavite e tenaglie con cui loro possono effettivamente aggiustare e procedere in questo percorso ogni gara strategica vedete è formata da un certo numero di lotti alcuni sono geografici altri sono di tipo funzionale per quanto altro le vedremo qualche esempio e come vedete la terza colonna che riporta la base d'assa si tratta di gare di estrema di volume estremamente importante rilevante stiamo parlando di centinaia di milioni di euro se non addirittura miliardi di euro per esempio se volete se vi guardate la gara la quarta riga vedete che la prima gara di sviluppi applicativi in ottica cloud aveva una base d'assa complessiva su tirotti quindi sommando i lotti di un miliardo e due questa gara è da poco stata ribandita c'è una seconda edizione perché non l'aveva esaurita e adesso è di 3 miliardi e 300 milioni per dire si è ovviamente dovuto ridimensionare il volume e quindi la disponibilità in termini economici di questa gara visto l'enorme successo che aveva avuto la prima edizione questo è ovviamente anche per noi un successo e rappresenta un indicatore evidente di quanto sia rilevante la presenza di queste gare strategie nel panorama del procurement pubblico io a questo punto lancerei un primo sondaggio perché vorrei capire da voi che siete collegati del pubblico quanti di voi già usano gli accordi quadro di CONSIP possibilmente con successo chi invece ha provato a usarli ma ha avuto dei problemi o chi non li ha mai utilizzati quindi vi prego cortesemente vedo che qualcuno già sta rispondendo cliccate sull'opzione che ritenete ovviamente più aderente all'amministrazione per cui lavorate vi lascio qualche secondo per le risposte ma già vedo con soddisfazione che la prima voce è la più cliccata lasciamo qualche altro secondo direi comunque che 60% abbondante di voi o almeno dei rispondenti ha utilizzato regolarmente con successo gli accordi quadro offerti da CONSIP per carità un 23% che non ha mai utilizzati vabbè bisognerebbe vedere la specificità che ha impedito utilizzare questo accordo di quadro però ripeto la cosa che mi avrebbe inquietato di più se avrebbe stato un numero rilevante di di pubblico che insomma rispondi alla seconda opzione direi che possiamo anche togliere questo sondaggio grazie intanto per la collaborazione e la pazienza vabbè a questo punto visto che la maggior parte di voi già ha adoperato un accordo quadro di CONSIP per cui vado abbastanza veloce come è fatto come si struttura un accordo quadro un accordo quadro è appunto un contratto che viene stipulato da chi vince dagli aggiudicatari di una delle gare strategiche e all'interno di questo accordo quadro che è appunto uno strumento contrattuale vengono fissate alcune caratteristiche diciamo generali dei servizi che i fornitori si impegnano a erogare o di beni che si impegnano a fornire questi accordo quadro possono essere o di tipo mono fornitore oppure multi fornitore regolati dagli appositi articoli del codice dei contratti e quando una pubblica amministrazione vuole aderire utilizzare alcuni di questi accordo quadro e quindi stipulare un cosiddetto contratto esecutivo però ripeto anche qui non entro in dettaglio perché vedo che la maggior parte di voi ci ha già provato e anche con successo comunque una pubblica amministrazione va a redigere il cosiddetto piano dei fabbisogni dove esplicita le necessità e quindi i requisiti del servizio del bene che vuole acquisire dall'aggiudicatario dell'accordo quadro invia al fornitore il piano di fabbisogni eventualmente il fornitore può anche aiutare l'amministrazione a predisporre a riempire il piano di fabbisogni che è comunque uno strumento in cui un documento in cui template si trova sul sito della supportare dell'accordo quadro in risposta al piano di fabbisogni il fornitore redige un cosiddetto progetto di fabbisogni o progetto operativo che rimanda in ritorno alla pubblica amministrazione lo può approvare può chiedere delle modifiche la pubblica amministrazione quando lo riceve quando arriva all'approvazione definitiva può essere sottoscritto il contratto esecutivo in cui ovviamente il fornitore si impegna a erogare il servizio per l'amministrazione contraente con i livelli di servizio e le eventuali penali in esso contenuti in questo scambio e interazione tra la pubblica amministrazione e il fornitore hanno un ruolo sia con SIP che noi come agenzia diciamo sia nel supporto alle pubbliche amministrazioni per utilizzare questo strumento sia nel monitoraggio dell'ondamento quindi nel governo dell'accordo quando interveniamo noi tramite strutture di cui parlerò a breve con grande collaborazione con i colleghi di Consip con cui da anni appunto lavoriamo fianco a fianco credo con un ottimo risultato ma dovreste essere voi a dirlo insomma allora in tutto questo torniamo al focus di questo webinar cioè i pareri di Agit come ho detto nel primo modulo di questo ciclo di webinar l'articolo 14 bis comma 2 lettera G del codice dell'amministrazione digitale prevede che Agit rilasci pareri tecnici vincolanti questa volta a differenza degli altri che erano obbligatori ma non vincolanti nel senso che l'amministrazione può scegliere a propria responsabilità cosa recepire delle indicazioni questi invece sono obbligatori e vincolanti sugli questa è la dizione della norma sugli elementi essenziali delle graie strategiche che cosa sono questi elementi essenziali sono ovviamente l'oggetto della fornitura per cui noi entriamo nel merito della definizione dei vari servizi e beni che costituiscono l'oggetto della conto quadro della graia strategica e quindi della conto quadro che da essa scaturisce il valore economico del contratto nel senso che noi analizziamo e collaboriamo con SIP per la definizione delle vari basi d'asta e quindi il dimensionamento degli accordi quadro come vi ho detto prima sono estremamente rilevanti quindi stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro se non addirittura di miliardi di euro il parere tecnico vincolante si occupa anche di analizzare la tipologia di procedura quindi per esempio l'articolazione in lotti esclusività o meno dei vari lotti questi aspetti andiamo a verificare o insomma esaminare i criteri di aggiudicazione in particolare ovviamente i criteri di aggiudicazione del punteggio tecnico e poi esaminiamo con un'attenzione diciamo molto molto puntuale le clausole contattuali che ripeto sono divise in clausole dell'accordo quadro che è un altro articolato e clausole dei contatti esecutivi e noi analizziamo la struttura di entrambi in realtà il parere ai sensi dell'articolo 14b 2 lettera g è il termine di un percorso che può durare anche tempo notevole parliamo di settimane non mesi di un lavoro di collaborazione che facciamo molto strettamente insieme con i colleghi di Consip per cui ogni volta che Consip partorisce per così dire una nuova gara strategica in realtà noi abbiamo collaborato lungamente alla definizione e al perfezionamento della documentazione di gara che da noi rivista e anzi in alcune occasioni è scritta a quattro mani quindi in fase di elaborazione in fase di creazione e progetto della gara strategica noi siamo coinvolti e poi come dicevamo prima Agit è coinvolta anche nella successiva fase di governo e di controllo degli accordi quadro tramite degli organismi che si chiamano organismi di coordinamento e controllo che sono previsti per tutte le gare di cui abbiamo fatto prima l'elenco scusatemi allora in particolare questi organismi di coordinamento e di controllo sono di due tipi per ogni per le gare strategiche è previsto un comitato strategico che racchiude al suo interno persone referenti sia di Agit sia di Consip ma anche per il dipartimento della trasformazione digitale e che si occupa appunto del governo strategico di tutte queste iniziative e poi per ogni gara è definito un comitato tecnico che è composto da referenti dell'agenzia io stesso sono alcuni di questi comitati e anche il collega Massimi referenti quindi persone di Consip e poi ci sono anche referenti degli aggiudicatari di fare accordi quadro che ovviamente partecipano ai lavori e cosa vanno queste strutture fanno appunto il governo tecnico quindi si tratta del monitoraggio dell'andamento degli accordi quadro coerenza dei contratti esecutivi che vengono stipulati della pubblica amministrazione con gli obiettivi di questi accordi quadro perché ritorniamo alla metafora di prima ogni accordo quadro rappresenta uno strumento da cassetta agli attrezzi un attrezzo specifico per aiutare le amministrazioni pubbliche in una specifica fase del processo di digitalizzazione dei servizi quindi ogni accordo quadro deve essere usato nel momento adatto e allo scopo adatto e il comitato tecnico ha anche la funzione di verificare che ciò effettivamente venga fatto e non venga utilizzato per per trovare la metafora per piantare un chiodo una pinza un calciavite piuttosto che il martello per far questo ci si basa esistono dei flussi di dati che vengono analizzati sono i famosi dati di governo per ogni contatto esecutivo viene identificata l'applicazione dei famosi principi guida al piano trennale ne abbiamo parlato nei precedenti moduli di questo webinar i principi guida al piano trennale sono il famoso once only piuttosto che uso di open source piuttosto che vabbè l'abbiamo elencato e ritrovate nelle slide precedente ogni contatto esecutivo quindi ogni iniziativa che un'amministrazione conduce grazie tramite lo strumento dell'acconto quadro viene categorizzato rispetto agli ambiti del piano trennale quindi se si parla di dati servizi quant'altro per ogni iniziativa vengono raccolti i cosiddetti indicatori di digitalizzazione vedete in questa tabella che sono elencati gli indicatori generali di digitalizzazione per esempio ci sono la rivoluzione della spesa per l'erogazione del servizio ricordiamo che a cosa servono il quadro per digitalizzare i servizi erogati a cittadine imprese quindi un obiettivo dell'intervento può essere rivoluzione della spesa per l'erogazione di questi servizi e allora viene in qualche maniera quantificato prima dell'intervento quanto è questa spesa e poi viene ricalcolato al termine intervento la differenza da questi due valori rappresenta appunto un indicatore del successo o meno dell'iniziativa in sé e così via rivoluzione percentuale dei tempi di erogazione il numero di servizi aggiuntivi perché ovviamente un intervento può essere avere per obiettivo la realizzazione di nuovi servizi esistono indicatori di tipo anche qualitativo che non prevedono una quantificazione come abbiamo visto prima di tempi e costi e di trovare in seconda colonna e la terza colonna invece ci sono gli indicatori di collaborazione e di uso perché un altro degli obiettivi di tutto questo filone di strumenti è anche dare modo alle amministrazioni di riutilizzare sia soluzioni e tecniche ma soprattutto anche i processi e anche di collaborare quindi fare le iniziative di co-working tra più amministrazioni nei casi in cui questo ovviamente è opportuno e vantaggioso dunque io vorrei anche ritornare la volta scorsa alla fine del mio intervento avevo fatto anche un sondaggio in cui chiedevo quali temi tra quelli che avevo affrontato forse secondo voi meritorio di votare l'approfondimento una delle anzi credo la voce che ha risposto più click quindi più voti sia proprio forse proprio gli strumenti di acquisto centralizzati per cui ho fatto questa slide in cui ho cercato di sintetizzare com'è la faccenda tra tutti gli strumenti di acquisto centralizzati a disposizione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali tra cui ovviamente gli accordi di quadro di cui stiamo parlando adesso possono essere sintetizzati in questa specie di grafico di gamma cartesiano che trovate anche sul sito di Consip e sull'asse dell'ascense avete l'importo diciamo dell'iniziativa che un'amministrazione deve condurre mentre invece sull'asse delle ordinate abbiamo il tipo di fabbisogno che deve soddisfare se in qualche maniera è standard oppure no standard oppure no per cui per le iniziative di acquisto di che ne so di lavoro piuttosto che servo stampati o quant'altro quindi per un fabbisogno standard esistono sono messi a disposizione i contatti quadro o convenzioni tipicamente le convenzioni Consip che sicuramente tutti voi conoscete per invece le iniziative non standard sono previste ad esempio il ricorso al mercato elettronico e la pubblica amministrazione quindi il MEPA per iniziative al di sotto della soglia comunitaria per iniziative al di sopra della soglia comunitaria invece lo strumento che è adeguato e quindi viene raccomandato è il sistema dinamico di acquisto della pubblica amministrazione il famoso SDAPA gli acquati quadro si ritrovano un po' nel mezzo della faccenda perché anzitutto possono essere adoperati per importi variabili sopra sotto la soglia ma hanno una parte che sicuramente può essere in qualche maniera standardizzata e altre parti che invece deve essere customizzata il portale del link acquisi in rete PA è il punto d'accesso per tutti questi strumenti di acquisto centralizzati di dentro se andate a navigare come credo che tutti voi avete fatto almeno una volta vedete se cliccate nell'area versologica dell'ICT che ripeto è l'ambito di cui ci occupiamo noi vedete questo elenco di 58 voci di cui 29 sono di quadro 25 sono convenzioni poi ci sono beni e servizi sia MEPA che SDAPA che possono essere navigate alla ricerca dello strumento che l'amministrazione in quel momento può ritenere più utile più adeguato alle proprie esigenze credo che con i tempi a disposizione questo è l'approfondimento che posso dare però ripeto ulteriori feedback sull'argomento siamo disposti a riceverli e quindi potremmo dare ulteriori risposte il secondo argomento di cui nel modulo precedente avete chiesto un approfondimento è l'analisi del total cost ownership io avevo citato questo strumento che peraltro è stato introdotto da Gartner anche tanto tempo fa voglio dire non è una cosa nuova addirittura è 1987 è un tipo di analisi di costo che può consentire di identificare a parte i costi nascosti la metafora che si usa sempre è quello dell'iceberg l'iceberg rappresenta un progetto informatico ovunque la realizzazione di una soluzione informatica e spesso è visibile solo per esempio il costo di acquisto e non è immediatamente visibile non so i costi di supporto manutenzione e soprattutto i costi per esempio per la dismissione di questa soluzione sono tutti al di sotto la superficie dell'acqua e per cui a volte vengono trascurati invece Gartner propone questo modello di in qualche maniera sommarizzare quindi fare un costo complessivo mettendo in evidenza sia i costi di realizzazioni che non è necessariamente acquisto può anche essere noleggio più soprattutto che sviluppo di una soluzione nel caso stiamo parlando di un'iniziativa di sviluppo applicativo e i costi operativi che sono i costi di gestione manutenzione e quant'altro ma soprattutto i costi di uscita dalle soluzioni e mi rilagaccio a quanto ha detto Fabio a proposito dei fenomeni di lock-in tecnologici le situazioni di lock-in sono tali per cui magari i costi di ingresso e i costi iniziali apparivano bassi e quindi faceva sembrare vantaggioso la scelta di soluzioni in realtà i costi di uscita sono altissimi quindi se viene adoperato un modello di questo genere che mette a pari livello di dignità i costi di tutte le varie fasi del ciclo di vita di una soluzione può risultare la verità riguardo al vantaggio o allo sviluppaggio di utilizzare un'alternativa piuttosto che un'altra quindi il costo d'ownership normalmente è uno strumento che serve per valutare in maniera più efficace e completa varie alternative a disposizione delle pubbliche amministrazioni nel corso dei loro progetti o delle loro acquisizioni una cosa che va detta che l'analisi del ciclo si concentra appunto sui costi quindi non stavo parlando è uno strumento che si mette accanto all'altro grande strumento utile che è l'analisi dei costi e dei benefici il total cost ownership si concentra ovviamente su quelli che sono i costi e ovviamente non è uno strumento completo in sé perché a volte l'amministrazione deve effettivamente scegliere la soluzione che ha un TCO più alto di lato perché ottiene maggiori benefici quindi ripeto è uno strumento di essere adoperato insieme a un'analisi di questi benefici un'altra indicazione importante da dare per approfondire questo aspetto è che il total cost ownership anche quello ha un costo è un'analisi che perlomeno comporta ricerche comporta stime comporta un expertise nel mercato per cui non ha senso portare avanti un'analisi di questo genere in generale conviene ed è opportuno farlo quando l'iniziativa ha un certo volume e quindi una certa rilevanza e quindi è tollerabile e accettabile se un'iniziativa ha un volume di 100 spenderne 4-5 per fare un'analisi di TCO in caso contrario ovviamente gli strumenti possono essere diversi devono essere dimensionati in coerenza con quello che è l'ambito e la rilevanza dell'iniziativa stessa niente anche in questo caso io credo che come approfondimento peraltro ripeto esempi di analisi di sinoni li abbiamo fatti li facciamo anche in alcuni pareri tempo fa Agid aveva fatto anche guida su come si fanno i studi di fattibilità all'interno c'erano anche esempi di questo tipo ripeto se avete ulteriori domande su questo fronte siamo pronti anche a raccoglierle e a fare integrazione di risposte per il momento però mi fermerei qui e credo di aver finito anche il mio intervento ripeto io intanto ringrazio per l'attenzione che mi sembra già una cosa positiva e anche meritoria di riedizioni questo tipo di momenti come webinar tutti i vostri feedback sono benvenuti lascio qui il mio indizio di mail a cui già voi hanno indirizzato quei siti quindi ve ne ringrazio richiamo al microfono il collega Fabio che credo sia ancora in linea e credo che sia sono esattamente nei tempi quindi gli rito la parola grazie sì eccomi di nuovo allora nel in questa parte del del webinar cercheremo di dare alcune indicazioni su gli impieghi pratici degli accordi quadri quadro che derivano dalle gare strategiche allora nello scorso webinar naturalmente abbiamo avuto diciamo pensato di procedere in questo modo prendiamo dai risultati dei sondaggi che abbiamo lanciato nello scorso webinar andiamo a prendere quegli argomenti perché naturalmente fare una trattazione completa diciamo diventa impegnativo anche in termini di tempo e quindi caliamo i vostri desiderata nel contesto degli accordi quadro e in particolare nel sondaggio che era stato lanciato il 21 marzo scorso abbiamo visto che il maggiore interesse dei partecipanti era su argomenti che riguardano il riuso e la definizione dei requisiti che sono due temi fortemente connessi e naturalmente sono le basi dell'iniziativa molto spesso cioè andare a definire quali sono i requisiti funzionali e in qualche modo non funzionali quindi diciamo a grande linee diciamo quali sono i requisiti di qualità come deve essere il nostro software avevamo fatto il caso dei servizi applicativi e quindi descrivere in modo corretto la nostra esigenza dell'amministrazione in modo che il fornitore poi possa procedere con un'offerta adeguata e non emergano nel corso della fornitura requisiti non previsti che già sappiamo benissimo che comporta risolvere problemi non indifferenti sulla gestione del contratto e poi il tema del riuso che è questo fondamentale perché naturalmente il riuso ha un impatto significativo sui tempi e i costi dell'iniziativa perché naturalmente il riuso vuol dire in qualche modo mettere a frutto il lavoro l'esperienza già fatta da un'altra pubblica amministrazione e quindi c'è un'alta probabilità che molti dei requisiti che noi abbiamo in testa sono già stati in qualche modo analizzati e soddisfatti in esperienze precedenti da altre amministrazioni naturalmente vale sempre il principio della specificità dell'amministrazione ma possiamo dire che per determinate categorie di amministrazione i requisiti sono molto simili quindi perché andare ad acquistare un mezzo nuovo quando abbiamo un mezzo già testato e sviluppato da un soggetto che ha le nostre stesse esigenze è proprio è proprio per questo che il riuso è la prima opzione nell'analisi valutazione delle alternative che viene richiesta dall'amministrazione dell'articolo 68 del CAD quindi vedremo come nell'ambito degli accordi quadro in particolare degli accordi quadro di CONSIP questi due aspetti il riuso dei requisiti sono gestiti naturalmente prendiamo gli accordi quadro di CONSIP perché abbiamo visto sono degli accordi quadro di grande entità a cui accedono molte amministrazioni e quindi di fatto sono accordi che vengono fortemente stressati quindi possiamo dire che le prassi che vengono adottate in questi accordi sono testate naturalmente come dicevo prima è logico che nelle varie edizioni raccogliendo i feedback dell'amministrazione che hanno utilizzato l'accordo quadro poi questi sono strumenti che vanno in continuo miglioramento però diciamo partiamo già da una buona struttura che ha dato buoni risultati in passato quindi il riuso applicativo come ho già detto il riuso ha impatto sui tempi e i costi dell'iniziativa prendiamo come esempio gli accordi quadro di CONSIP sui servizi applicativi ce ne sono molti attivi se voi andate su acquisti in rete PA e selezionate come strumento l'accordo quadro vedete che per le categorie dei servizi informatici ci sono molti accordi quadro di sviluppi applicativi attivi qui qui come esempio ho citato l'accordo quadro SAC 2 che è destinato alla pubblica amministrazione centrale oppure potrete trovare anche degli accordi quadro per sviluppi applicativi che riguardano la sanità digitale in particolare poi quelli sono suddivisi anche per aree geografiche naturalmente il riuso ha impatto in generale su tutti i servizi di sviluppo previsti da un accordo quadro perché il riuso rientra poi anche nei progetti quelli chiamati greenfield ovvero sviluppo un servizio da zero è quasi è praticamente sicuro che ci sono delle componenti già realizzate che in qualche modo posso inserire integrate all'interno del mio sistema nuovo tra virgolette nuovo quindi sia per quanto riguarda i progetti greenfield nuovi di diciamo brand new di fabbrica e progetti di re-ingegnerizzazione molto spesso le amministrazioni si trovano a dover re-ingegnerizzare i propri sistemi in logica seguendo anche le linee guida per l'interoperabilità quindi andare a re-ingegnerizzare il proprio servizio utilizzando delle API quindi delle interfacce applicative e allo stesso modo il riuso quello più classico è quello legato a sviluppi per progetti di configurazione e personalizzazione di software open source e a riuso ovvero sia prendo un software già usato da un'amministrazione faccio un esempio il protocollo lo acquisisco poi vediamo perché le linee guida per il riuso ci spiegano come poi quel processo di acquisizione di quel software deve essere effettuato dall'amministrazione e poi naturalmente quasi sicuramente ho bisogno di servizi di configurazione e personalizzazione oppure di sviluppi applicativi ad esempio se io devo integrare il mio protocollo con altri sistemi interni dell'amministrazione quindi in queste tre categorie di servizi che sono all'interno degli accordi quadro per i servizi applicativi noi avremo a che fare l'amministrazione ha a che fare con il riuso quali sono le buone prassi allora una buona pratica che in qualche modo abbiamo introdotto anche negli accordi quadro è quello di legare un indicatore di prestazione al riuso di componenti applicative quindi l'indicatore di prestazione come già ci ha spiegato Francesco anche nelle edizioni precedenti nelle webinar delle settimane scorse vuol dire che abbiamo un indicatore che spinge il fornitore a utilizzare i componenti già a riuso naturalmente le soglie sono progressive poi abbiamo un esempio nella slide successiva quindi una soglia progressiva vuol dire che ad esempio inizio il primo semestre parto con un 5% poi aumento di 5 in 5 nei semestre successivi magari per un contratto di 36 mesi e al soddisfacimento di questa soglia leggo il pagamento di una quota sospesa quindi che vuol dire che il fornitore è premiato se in maniera incrementale riusa software già sviluppato naturalmente nei contratti quadro noi vengono introdotte delle metriche adesso io magari descrivo il come il riuso impatta sulla remunerazione dello sviluppo nel caso dei contratti quadro degli accordi quadro CONSIP non voglio dire che questa sia la metodologia standard perché poi in letteratura esistono metodologie anche molto più fini magari qui cito l'associazione Gufpi Isma che è il mirror di Ifpug in Italia e naturalmente se voi seguite l'attività di questa associazione saprete e potrete venire a contatto con prassi anche molto più fini di quella che è introdotta all'interno dell'accordo quadro CONSIP quello che possiamo dire delle metriche utilizzate negli accordi quadro CONSIP è che sono testate sul campo quindi consentono facendo una valutazione costo benefici consentono una facile adozione e comprensione da parte della pubblica amministrazione e hanno poi come risultato un risultato tutto sommato positivo per questo motivo magari alcune prassi che sono delle semplificazioni che stanno appunto che descriverò magari dal punto di vista accademico non sono possono essere discutibili ma abbiamo verificato sul campo che al momento funzionano quindi diciamo prendetelo come una delle possibilità di andare a definire il costo dello sviluppo applicativo in modo coerente con gli obiettivi che l'amministrazione ha in mente in particolare negli accordi quadro per i servizi applicativi applicativi le metriche proposte sono naturalmente i punti funzioni IFPUG e contemporaneamente possono essere utilizzate delle metriche classiche diciamo come i giorni persona questo perché molto spesso per l'implementazione di requisiti non funzionali le metriche funzionali appunto per requisiti non funzionali non sono di facile applicazione per cui molto spesso è possibile andare a dimensionare un'attività che magari riguarda faccio un esempio l'interfaccia utente utilizzando non i punti funzioni ma i giorni persona in questo modo diciamo abbiamo una semplificazione ma in questo caso molto spesso quello che importa è arrivare al risultato che l'amministrazione ha in mente riguardo l'indicatore di prestazione per il riuso dei componenti questo è l'indicatore che è presente nell'accordo quadro concept per i servizi applicativi quindi parliamo di riuso di componenti nello sviluppo ex novo in questo caso quest'indicatore come vedete ha una formula abbastanza semplice perché è il rapporto tra il numero dei componenti frutto di riuso sul numero di componenti totali viene definito una soia che è del 10% il primo trimestre con un incremento del 5% ad ogni semestre questo che vuol dire che il riuso questo nostro indicatore di riuso deve essere superiore al 10% nel primo semestre poi si incrementerà di 5 in 5 al passare dei semestri del contratto naturalmente il raggiungimento il mantenimento di questo livello di servizio consente all'amministrazione di percepire la quota sospesa legata appunto allo sviluppo al riuso per lo sviluppo ex novo che è pari al 5% della fornitura questo è un meccanismo che viene utilizzato per premiare i fornitori che appunto su determinati e importanti obiettivi dell'amministrazione qui in questa slide vediamo come tener conto del riuso quando andiamo a calcolare a quantificare i costi di sviluppo anche in questo caso come dicevo prima questo è un modello che è stato inserito all'interno degli accordi quadri non voglio dire che questo sia il metodo standard che deve essere utilizzato in tutte le situazioni ma dalla nostra esperienza abbiamo visto che nell'ambito nel contesto degli accordi quadro questo modello funziona naturalmente può essere migliorato e con metodologie più moderne che comunque richiedono un supporto specialistico per essere applicate questo magari mi aggancio su questo punto penso che l'abbia detto anche Francesco prima naturalmente avete visto che nell'ambito degli accordi quadro quadro concept ci sono dei lotti di PMO quindi nei lotti di PMO molto spesso vengono inserite anche le risorse specialistiche per misurare il software che poi deve essere utilizzato quindi questa è una risorsa molto importante e a supporto delle iniziative dell'amministrazione naturalmente l'amministrazione deve sempre mantenere il controllo ma le risorse specialistiche che possono essere riprite dall'amministrazione nell'ambito dei lotti PMO sono di sicuramente valido aiuto perché vanno a sopperire magari molto spesso a mancanze di expertise dell'amministrazione su aspetti specifici come può essere nel caso dell'utilizzo delle metriche software quindi indicazioni sull'utilizzo del riuso naturalmente le componenti integralmente riusate devono essere inserite una sola volta nel conteggio delle applicazioni a prescindere dal numero di volte in cui sono effettivamente riutilizzate questo vuol dire se io prendo un componente e lo riuso 100 volte è logico che quel componente che viene riusato non è soggetto a essere remunerato perché è già stato sviluppato quindi viene sviluppato e poi usa è già un patrimonio dell'amministrazione viene utilizzato laddove serve per il calcolo del per capire andare a quantificare l'impatto del riuso sui costi viene utilizzata questa questo diciamo questo modello allora viene fatto in qualche modo la misura del componente in punti funzione il componente che deve essere posto a riuso quindi la misura viene fatta utilizzando le regole ifpug e a questa quindi viene poi calcolato una misura chiamata punti funzione equivalenti facendo moltiplicando la misura in punti funzione con un coefficiente correttivo che è il coefficiente di riuso negli accordi quadro concept questo coefficiente di riuso viene indicato con 0.5 questo vuol dire che nello sviluppo applicativo i punti funzione che sono frutto di riuso vengono pagati la metà per fare un esempio molto banale questo appunto per in qualche modo andare a definire l'impatto che ha il riuso rispetto a un punto funzione sviluppato ex novo quindi naturalmente il riuso del software oltre a avere un impatto sui tempi perché velocizza l'attività di sviluppo ha un impatto sui costi perché il costo è inferiore il costo del punto funzione prodotto da riuso software riuso applicativo legato a software sviluppato dalla pubblica amministrazione che sappiamo deve essere rilasciato con licenza open source le linee guida sull'acquisizione e riuso del software per le pubbliche amministrazioni descrivono un processo che è il processo dell'amministrazione che va a selezionare viene citata come fonte naturalmente quello che ha sostituito il catalogo del riuso agito ovvero il sito developers italia quindi seleziona da developers italia il software che l'amministrazione vuole riusare che è adatto alle proprie esigenze lo scarica liberamente perché il software è pubblicato in modalità open source quindi la pubblica amministrazione avrà anche quello che viene chiamato una piattaforma di code hosting ovvero sia la pubblica amministrazione che ha software sviluppato ad hoc che viene posto a riuso pubblicato diciamo con licenza open deve essere reso pubblico appunto attraverso un software come github che consente di gestire le versioni del codice e che consente alle amministrazioni che vogliono utilizzare il codice di scaricarlo liberamente una volta acquisito il software l'amministrazione B che è quella che poi procede al riuso incarica il fornitore come abbiamo detto all'interno degli accordi quadro ci sono servizi per configurazione e personalizzazione di software open source naturalmente poi ci saranno i servizi di formazione nei confronti del personale e qualora l'amministrazione B che è l'amministrazione che ha acquisito il software e che ha fatto il riuso modifica quel codice a sua volta deve pubblicarlo nella propria piattaforma di code hosting quindi questo fa sì che il codice poi anche se modificato debba essere rimesso a disposizione delle altre amministrazioni che hanno intenzione di utilizzarlo sui requisiti naturalmente anche i requisiti il tema dei requisiti è strettamente collegato all'aspetto del riuso come abbiamo detto nel webinar dello scorso 21 marzo l'amministrazione un passaggio fondamentale dell'amministrazione nel che appunto si appresta ad avviare un'iniziativa di sviluppo è quello di andare a definire i requisiti i requisiti li abbiamo descritti in questo albero che è tratto dalla guida tecnica all'uso di metriche per il software applicativo di Agid e vediamo che i requisiti sono divisi in due grandi categorie che sono requisiti funzionali e requisiti non funzionali la volta scorsa abbiamo descritto anche le altre categorie cioè i requisiti e vincoli di progetti requisiti di sistema ambientale requisiti tecnici che oggi non andiamo a toccare ma ci focalizziamo sui requisiti funzionali e i requisiti non funzionali ma che riguardano i requisiti di qualità questo per fare una semplificazione che magari ci consente di avere una maggiore concretezza nella discussione degli esempi quindi i requisiti funzionali sono cosa il software deve fare e i requisiti non funzionali di qualità sono non cosa il software deve fare ma come lo farà vediamo che dal punto di vista degli standard è stata fatta una grande attività in ambito ISO in particolare poi c'è una slide successiva che vi farà vedere come sono declinate le le caratteristiche di qualità di un software e le caratteristiche di qualità riguardano moltissimi aspetti ad esempio la riusabilità è una caratteristica di qualità ciò vuol dire che un'amministrazione che acquista un software naturalmente deve fare una descrizione anche molto formale c'era una slide specifica sui formalismi da utilizzare nel webinar precedente quindi deve descrivere sicuramente i requisiti funzionali ma deve anche descrivere i requisiti di qualità ovvero sia se il software che l'amministrazione produce deve essere messo a riuso ci sono delle caratteristiche di qualità che devono essere rispettate dal fornitore e quindi il fornitore non solo deve sviluppare la specifica funzionalità ma la deve sviluppare con determinate caratteristiche nel caso del riuso ad esempio il codice deve essere documentato ci sono tutta una serie di misure di qualità che devono essere rispettate nell'approccio CONSIP forse questa è una cosa che nella slide quando ho parlato dell'impatto del riuso nel costo degli sviluppi applicativi negli accordi quadro CONSIP forse questa è la semplificazione che poi non ho forse focalizzato i requisiti di qualità sono inseriti nel costo complessivo del punto funzione cosa significa questo l'amministrazione chiede una specifica funzionalità definisce anche le modalità e i requisiti di qualità con cui devono essere sviluppate queste funzionalità quindi il fornitore deve comprendere qual è la funzionalità che deve essere sviluppata e quali sono i requisiti di qualità di questa funzione quindi il punto funzione degli accordi quadro CONSIP in realtà è un punto funzione che si misura l'aspetto funzionale ma misura diciamo nel costo complessivo deve tener conto anche di tutti i requisiti di qualità che vengono definiti a monte dall'amministrazione quindi in questo in quel caso specifico dell'accordo quadro quando noi parliamo di costo del punto funzione parliamo di costo della singola funzionalità ma anche di tutti gli attributi di qualità che quella funzionalità ha allora lancio a questo punto un sondaggio per così andare a vedere qual è l'esperienza la vostra esperienza riguardo la gestione dei requisiti in un'iniziativa di sviluppo abbiamo tre possibilità di opzioni quindi affidate al fornitore anche la raccolta dei requisiti elencate in dettaglio nel capitalato tecnico i requisiti funzionali delle applicazioni da realizzare la terza opzione elencate in dettaglio nel capitalato tecnico i requisiti funzionali e non funzionali delle applicazioni da realizzare ecco vediamo anche in base al slide che abbiamo appena commentato qual è il vostro punto di vista vedo che la seconda opzione è quella che ha un che è stata che viene maggiormente votata ok direi che possiamo anche ecco c'è qualche ritardatario ma penso che le quote più o meno siano stabili quindi il 61% di voi elenca in dettaglio nel capitalato tecnico i requisiti funzionali delle applicazioni da realizzare ok possiamo anche chiudere il sondaggio allora sicuramente l'approccio l'analisi dei requisiti funzionali è predominante ma è fondamentale che l'amministrazione vada a indicare anche i requisiti non funzionali nel nostro caso ci siamo focalizzati sui requisiti non funzionali di qualità quindi la terza opzione forse era quella più desiderabile questo perché come abbiamo detto la funzionalità a sé stante si soddisfa il mio requisito però poi vediamo anche proprio dalla declinazione che viene fatta dalla ISO 2500010 che i requisiti di un software sono molto più complessi quindi ci sono requisiti che riguardano ci sono otto dimensioni che sono state definite dalla norma tecnica ISO che vanno dall'idealità funzionale alle prestazioni l'usabilità questo è fondamentale l'affidabilità la sicurezza la manutenibilità quindi anche in questo caso quando noi parliamo di riuso ci troviamo nella dimensione della manutenibilità quindi noi dobbiamo nel nostro capitolato dire vogliamo un'applicazione manutenibile e la ISO 2500010 ci dà gli strumenti per andare a inserire delle metriche e poi di conseguenza andare a definire dei livelli di servizio per fare in modo che il fornitore soddisfi questi nostri requisiti di qualità che noi andiamo ad inserire naturalmente compatibilità e la portabilità appunto è la caratteristica che riguarda la migrazione del software verso magari verso piattaforme o infrastrutture differenti vedo che il tempo scorre molto veloce adesso alcuni elementi sugli accordi quadro naturalmente l'accordo quadro come ha già detto Francesco gli accordi quadro attivi sono numerosi è importante andare a individuare lo strumento giusto quindi è importante andare a documentarsi andare a vedere la lista specifica dei servizi compresi nell'accordo quadro e a scegliere i servizi che sono necessari naturalmente alle attività dell'amministrazione naturalmente negli accordi quali ci sono lotti operativi come per esempio lo sviluppo applicativo e lotti a supporto come i servizi di PMO che dicevo di cui parlavo poco fa naturalmente attenzione alla capienza perché anche gli accordi quadro benché abbiano una capacità molto ampia poi si esauriscono quindi l'amministrazione deve andare a pianificare con oculatezza le proprie esigenze andando poi a vedere quali sono quegli strumenti che nel momento in cui l'amministrazione decide di fare di avviare un'iniziativa sono a disposizione da questo punto di vista acquisti in rete PA fornisce degli strumenti anche visivi vedete in questo caso nel caso del public cloud gli asset pass su acquisti in rete PA abbiamo gli indicatori di esaurimento che ci danno una vista sulla capacità residua dell'accordo quadro ecco in questo caso l'otto 1 non è stato ancora sfruttato mentre la capacità dell'otto 2 è stata abbastanza è in via di esaurimento fondamentale andare a reperire informazioni sui accordi quadro i canali principali sono il sito CONSIP acquisti rete PA e in molti casi il portale della fornitura dell'accordo quadro fondamentale sia per chi poi accede all'accordo quadro come appunto per acquisire i servizi ma anche per le amministrazioni che poi decidono di procedere al di fuori degli accordi quadro CONSIP perché questi strumenti di comunicazione la documentazione pubblicata da CONSIP sono una valida guida anche per iniziativa che vengono portate avanti in autonomia dall'amministrazione fondamentale è la definizione del piano dei fabbisogni come ha già detto prima Francesco quindi è necessario chiarire l'oggetto e la qualità dei servizi che l'amministrazione sta per acquisire e da questo punto di vista attenzione agli SLA e alle penali che in molti casi sono SLA e penali che applica CONSIP ai fornitori in altri casi sono SLA e penali che applica l'amministrazione al fornitore stesso quindi è necessario andare a capire bene qual è il confine tra gli SLA e le penali che vengono applicate direttamente da CONSIP e da quelle che vengono applicate dall'amministrazione penso di essere alla fine della presentazione naturalmente sugli accordi quadro anche le società in house possono utilizzare gli accordi quadro come cassetta degli attrezzi e naturalmente noi abbiamo l'esempio di Sogei che è un grande cliente o cliente di accordi quadro CONSIP sia per le forniture nei confronti del MEF sia per le forniture nei confronti di altre amministrazioni naturalmente qual è l'obiettivo degli accordi quadro l'obiettivo degli accordi quadro è quello di creare una modalità standard per l'erogazione dei servizi ovvero noi abbiamo già visto dall'accesso dall'utilizzo degli accordi quadro che derivano dalle gare strategiche che anche le pubbliche amministrazioni raggiungono un livello di maturità più elevato perché conoscono lo strumento hanno una maggiore facilità d'uso e di accesso a quello strumento perché ormai hanno capito come funziona il meccanismo dell'accordo quadro quindi questo fa sì anche che sia possibile poi magari su contratti successivi anche switchare da un fornitore all'altro ecco l'infrastruttura contrattuale dell'accordo quadro consente appunto anche in chiave antilocchine di poter acquistare servizi da fornitori differenti avendo pagando uno scotto di migrazione molto molto basso naturalmente sempre all'interno della documentazione di gara che da cui scaturiscono gli accordi quadro vengono definite con puntualità le clausole per il passaggio di consegna e per il subentro del fornitore al termine del contratto esecutivo punti ecco due proprio venti secondi per le raccomandazioni e le considerazioni finali naturalmente le gare strategiche sono uno strumento abbastanza recente ancora in evoluzione e da questo punto di vista Agid lavorando insieme a Consip ha un punto di vista privilegiato e anche per compiti istituzionali ha il compito appunto di andare a inserire all'interno delle gare strategiche i principi che poi sono declinati nel piano triennale quindi molto spesso ci troviamo a discutere la struttura della gara strategica per adeguarla a modifiche che vengono dal piano triennale è naturalmente molto importante l'esperienza pregressa quindi da questo punto di vista anche io faccio un invito come l'ha fatto Francesco a farci avere i vostri feedback perché sicuramente l'esperienza di chi utilizza questi strumenti è fondamentale per poi andare a definire e a rendere di maggiore qualità l'edizione successiva delle gare strategiche Consip e Agile e Agile lavorano in modo complementare naturalmente Consip è molto focalizzata sulla procedura della gara mentre Agile appunto avendo dei compiti di così di motore dell'innovazione e dell'informatizzazione apporta il proprio contributo più per gli aspetti di innovazione tecnologica e di adozione di approcci non tradizionali bene sono arrivato al termine ecco Ludovico grazie Fabio allora buonasera a tutti in conclusione di questo ciclo di webinar prima di passare ai saluti volevo trarre insomma delle conclusioni ovviamente questo ciclo di webinar non è esaustivo sull'argomento che come avete visto insomma è molto ampio e richiede sicuramente ulteriori approfondimenti approfondimenti che sicuramente faremo e organizzeremo a breve in particolare vogliamo approfondire anche il discorso dei soggetti aggregatori locali che sono destinatari di quanto previsto insomma dalla lettera G quindi del comma 2 dell'articolo 14 bis del CAD e che fino ad oggi non hanno ancora utilizzato questo strumento quindi questo sarà sicuramente uno dei prossimi argomenti che approfondiremo e allora per quanto riguarda le domande i suggerimenti che sono arrivati nel corso di questo ciclo di webinar ne faremo sicuramente tesoro e li raccogliamo e cercheremo di realizzare con i vostri spunti degli strumenti informativi che vorrebbero essere delle FAQ ma assolutamente venanno anche presi in considerazione per quanto riguarda degli aggiornamenti i prossimi prossimi aggiornamenti della circolare sui pareri quindi per quanto riguarda i riferimenti del sito e qui trovate anche la pagina dedicata ai pareri sul sito istituzionale di Agid e il link per raggiungere la nuova circolare dei pareri a questo punto io voglio salutarvi ringraziarvi per la partecipazione e l'attenzione e volevo ringraziare tutti i colleghi di Agid e i colleghi del Formez che hanno reso possibile questo webinar e che speriamo sia stato interessante e utile per tutti grazie mille grazie a tutti allora grazie a tutti grazie a Ludovico Anniballi anche questo è stato un webinar molto interessante che sicuramente diciamo ha avviato anche l'interesse verso approfondimenti come appunto diceva già Ludovico Anniballi e noi proveremo a vedere se possiamo diciamo provvedere prossimamente anche ad organizzare ulteriori webinar intanto in chat vi ho dato un'informazione per chi di voi è interessato a un corso a un mock un corso online di durata e di articolazione più strutturata più lunga inizia sempre sul progetto Pongovernance un mock il 4 aprile c'è una edizione che può essere interessante a cui vi potete scrivere sempre dalla pagina di Eventi PA e vi do intanto la rivederci perché appunto noi continuiamo anche per tutto aprile a organizzare webinar con Agid sui temi appunto di Agid vi ricordo sempre di consultare sia l'home page del Formance dove trovate sempre le indicazioni ma anche il calendario che trovate su Eventi PA vi ringrazio tantissimo e vi saluto vi ricordo che potete scaricare l'attestato di iscrizione direttamente dalla pagina di Eventi dopo aver compilato un breve questionario di gradimento rispetto al webinar di oggi grazie ancora e arrivederci per i prossimi eventi buon pomeriggio a tutti di oggi grazie a tutti